Sì, il 10 marzo bisogna scegliere la sanità pubblica al contrario di una sanità pubblica. E' una sanità sempre più privatizzata da Marsilio e da Lameloni e questo vale per la sanità, per il trasporto, per l'ambiente, per la nostra costa. Bisogna scegliere il bene comune di tutti, a disposizione di tutti, contro invece quello più privatistico per il quale appunto stanno scegliendo soltanto politiche relazionali e clientelari. Ecco, la segretaria cittadina Rosetta Madonna l'ha definita come la forza che unisce e infatti è tra l'altro il suo motto, il motto di questa campagna elettorale, perché lei è riuscita a riunire tutte le forze del centro-sinistra per dare vita a questo patto per l'Abruzzo che vede in prima fila il Partito Democratico. Sì, è vero, io penso che sia stato l'ascolto di questi anni a farmi ritenere sperando di aver interpretato l'auspicio della comunità, dei cittadini democratiche, democratici, del centro-sinistra a chiedere a tutti di costruire un'alternativa. Abbiamo 25.000 prestazioni ospedaliere in meno, sempre di più la sanità si fonda sulla carta di credito e non sulla tessera sanitaria. Il trasporto, la privatizzazione della Sangritana, la privatizzazione della costa dei Trabocchi, ecco noi dovremmo opporci a tutto questo per farlo con una forza che unisca, che unisca i partiti, che unisca le comunità, che unisca la base vera dei nostri territori per dire no, per esempio, all'autonomia differenziata, per mandare a casa i vertici di un'asle che hanno ridotto solo qui a Lanciano del 30% le prestazioni ospedaliere, per mandare a casa i vertici del trasporto che vogliono privatizzare le corse e vendere la Sangritana. Oggi ci sarà la segretaria nazionale del PD, l'Asline, qui proprio a Lanciano e all'ospedale di Lanciano, che è un po' il vostro punto di forza per quanto riguarda questa campagna elettorale. Noi siamo con gli operatori e non con un vertice che accusa gli operatori. Noi siamo con i professionisti e contro una regione che prima ha tagliato, quando era la prima esperienza della destra, l'Asli Lanciano, e oggi ci ha messo tutti stranieri. Straniero è il Presidente della Regione, straniero è il Presidente del Consiglio eletto in Abruzzo, ancora più stranieri sono i vertici di questa Asli che non conoscono il territorio e le sofferenze dei cittadini.